bene, allora, per questo trucco diciamo è semplice, sì, però non proprio semplicissimo per chi ha appena preso un mazzo allora, come avete visto nella performance prima di tutto si prendono i jolly che normalmente non c'è bisogno di fare niente se li trovo aspettate, eccole qua erano all'inizio e li lasciate qua per il resto del trucco diciamo, fate scegliere una carta allo spettatore facciamo questa, ah vabbè la scegliere il nostro regista ecco qua in questo caso la guardo anch'io ma in teoria, cioè, quando fate il trucco non la fate vedere e a questo punto vi fate dire stop stop, vai stop ok, e infilate la carta con il break cioè una porzione di mignolo che da dietro sarebbe così cioè separa la vostra carta la carta dello spettatore cioè la carta dello spettatore cioè dal resto del mazzo che però davanti, cioè, non si vede a questo punto smazzate prendendo il mazzetto sopra così e così in questo modo abbiamo la vostra carta in cima poi potete fare tipo falsi miscoli come questo e ve lo spiegheremo in un altro tutorial e la carta resta sempre in cima oppure mischiare però sempre con la oh, adesso ho sbagliato con la carta in cima in questo modo la carta è sempre in cima bene, adesso mentre fate vedere i jolly cioè in questo modo dite che sono semplici mettete il break sulla prima carta e poi prendete i due jolly e li mettete sopra quindi abbiamo adesso tre carte in break ok a questo punto fate finta diciamo di farli vedere e infilate questo sotto a voi sembrerà sotto il jolly ma invece noi lo stiamo infilando sotto la vostra carta in questo modo senza far vedere la carta ovviamente e fate vedere che sono semplicemente due jolly infatti è qua e diciamo che il trucco è già fatto vi basta semplicemente un po' smazzare così adesso non proprio come ho fatto io perché non farli vedere i jolly così poi stendete le carte e fate vedere che in mezzo ai due jolly c'è una carta che carta era la loro vi fate dire che ne so adesso era al 4 di quadri voi fate così ed era proprio la loro carta bene ragazzi adesso si è concluso il video se vi è piaciuto questo trucco mettete un mi piace e se non siete iscritti e insomma vi sembreranno utili iscrivetevi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti